E allora buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti, mi raccomando iscrivetevi a questo canale se non siete già iscritti, condividetelo con tutti i tifosi della Fiorentina che conoscete, seguite me sui social, seguite Una Vita Sfumata Viola, Viola Press, Suffering Fiorentina, seguite tutte le pagine amiche, guardate i video fatti ieri e nel fine settimana, il commento alle parte, i due video alla Fiorentina e attivate il campanaccio perché stasera ore 21. processo al campionato devastante, signore, in cui rispondiamo alle vostre domande sulla Serie A e ovviamente anche sulla Fiorentina. Allora, facciamo il commento del giorno dopo, questa bella vittoria contro lo Spezia, questo bel direttore, una bella Fiorentina, una Fiorentina anche che mi sembra stia trovando nelle certezze in alcuni singoli, penso per esempio alla difesa, no? Si sta solidificando questa coppia di centrali che poi era quella che avevamo designato giustamente come la titolare di questa stagione, cioè Milenkovic, Martinez, Quarta, veramente una bella coppia con anche due elementi che si completano, uno un po' più difensivo, l'altro che fa anche delle scorribande in avanti, veramente una bella copiata di centrali di difesa, solida partita ieri anche di Biraghi, mi è piaciuto. Odriozola finalmente ha fatto una partita pur da subentrante nella quale ha fatto capire di avere del valore aggiunto che può comunque contribuire anche in fase offensiva alla Fiorentina. C'è un Torreira, signori, che ieri veramente è stato professore del centrocampo, Castrovilli, che comunque ha fatto una gara, ha fatto una gara buona, ha dato sprazi, ha dato dei segnali. Adesso c'è già chi dice che noi dobbiamo andare a Torino a vincere, bisogna vincere con lui, si deve vincere con la Juve a Torino. No, non è che si deve, si può, si può provare, ma non abbiamo nessun tipo di obbligo. Io sono comunque fiducioso che possiamo andare a fare un'ottima gara. Mi piacerebbe molto vedere quantomeno una Fiorentina, per esempio, come quella che abbiamo visto il primo tempo contro l'Inter. Mi piacerebbe molto rivederla, molto, molto. Non per 90 minuti, perché ovviamente è difficile, ma fare magari già un bel primo tempo come fu quello e usare l'esperienza di queste ultime gare, la solidità difensiva che stiamo avendo nelle ultime gare, magari per poi andare a conservare ed evitare la fine che abbiamo fatto in casa contro l'Inter, no? Quindi sicuramente ci possono essere dei margini, ci possono essere per fare bene a Torino. Poi affronteremo una squadra sicuramente difficile che dovrà ritornare assolutamente alla vittoria, però l'importante secondo me è andare lì con la testa libera, con la testa sgombra, perché ha tutto da perdere la Juve, non di certo noi. E quindi insomma avremo una settimana per parlarne, una settimana per seguire, una settimana per avvicinarsi. Però vi ripeto, adesso mettere pressione, dire bisogna vincere, se no bisogna di qua, bisogna di là, è sbagliato. Perché vi ripeto, andiamo comunque ad affrontare una squadra che sulla carta è più forte di noi. Si può fare il possibile, bisognerà fare il possibile per mettere in difficoltà sicuramente la Juve a livello di giocatore, di formazione e via dicendo. Venendo ai commenti che mi avete lasciato ieri un po' alle impressioni sulla gara, allora c'è stato un utente, il buon Chicco se non ricordo male, che ha citato l'episodio di Vlaovic che ha fatto una specie di sceneggiata con la maglietta lì con i giocatori dello Spezia. Ma allora lui ha un po' stepparate diciamo alla Ibrahimovic de Noantri, no? Che a volte deve, anche quando mi ricordo l'anno scorso che non segnava, fece un rigore contro la Sampdoria e zitti il pubblico per un rigore. Cioè diciamo ha queste parate a volte di personalità un po' eccentrica e gasata che talvolta si possono anche evitare onestamente. Cioè cinque schede, mona e scarse, farebbero anche bene, un po' di umiltà farebbe bene. Poi anche un'altra cosa che a volte non è che mi piaccia molto è l'atteggiamento con i compagni, perché ieri per esempio c'era Sottil che ha provato un tiro, ha anche fatto un tiro che poi Provedel ha dovuto deviare, che poteva essere pericoloso, lui si è incazzato con Sottil perché ha tirato. Cioè ma non è che quando tiri tu tutti devono stare zitti e devono essere in adorazione e ci provano gli altri e vanno fecati. Cioè un po' anche di ricordo, voglio dire, ci sono dei giocatori della Fiorentina di quest'anno, Sottil, ma anche per esempio Odriozola, altri che hanno bisogno di inserirsi, che hanno bisogno di essere aspettati, che vanno incoraggiati come sicuramente avverrà, perché poi ovviamente nello spogliatoio avranno un ottimo rapporto, visto anche quando Sottil ha segnato con l'Inter, è andato Vlaovic comunque ad abbracciarlo e via dicendo. Però insomma anche Vlaovic ha avuto i suoi periodi nei quali magari non è che faceva tutto bene e i compagni dovevano aspettare lui. Stavolta tocca il contrario, ma ci mancherebbe altro. Venendo a Sottil, comunque io sono fiducioso, lo vedo giocare comunque con sprint, con voglia, sì a volte sbaglia l'ultimo passaggio, ma anche lì non è che bisogna sempre metterlo, star lì con l'indice a vedere cosa fa, cosa non fa, lei ha detto, lei non ha detto, perché se si parla poi di pigna, come diceva il buon Manenti, stiamo un anno e mezzo per usare un riferimento, ma seriamente dicendo, un giocatore che ha bisogno di prendere confidenza col campo, comunque vi ricordo che tutte le partite in cui ha giocato titolare, poi la Fiorentina le ha vinte, stavamo dominando, stavamo dominando lo Spezia, lui è uscito che eravamo sul 2-0, quindi anche lui comunque ha preso parte, non solo oggi, ma anche altre volte, in gare in cui con la sua presenza dall'inizio si è fatto bene, quindi io continuerei a dare fiducia, un momento positivo della Fiorentina, è bene che il clima sia espanso a tutti, anche perché onestamente disastri o giocatori che stanno avendo delle gare disastrose, o un rendimento disastroso nel campionato, fortunatamente non ce ne sono, l'unico forse era Calleon, ma anche ieri Calleon comunque è entrato, avendo a disposizione non 90 minuti in cui magari per età cose non riesce a fare, ma avendo a disposizione uno scampolo di partita, comunque è riuscito a fare bene anche lui, insomma, quindi io vedo un clima buono, c'è un allenatore che a volte fa delle scelte magari un po' eccessive a livello dei cambi, turnover e via dicendo, ma il gioco c'è, la squadra c'è, quindi penso che di sto clima tutti possano beneficiare e tutti si debba essere contenti, per esempio un'altra cosa, sempre le critiche al calcio al mercato che vengono fatte e via dicendo, quando si parla del vice Vlaovic, vi ripeto, a parte che davanti c'è un attaccante che segna con continuità, anche ieri ha fatto una super prestazione che è forte, che deve giocare, si parla dell'esterno, c'è Saponara, per esempio, che sta emergendo anche grazie a sta cosa, che c'è un'apertura nei ballottaggi tra gli esterni che permette di dare spazio a tutti e con tutti i limiti che si continuano a dire, serviva Tizio, serviva Caio, serviva l'esterno, serviva e via dicendo, c'è una squadra comunque che è sesta e puttacaso che non succede, ma se succede, che magari si fa pure il risultato a Torino, voglio dire, lasciamo perdere, cioè, io sono contento del mercato che si è fatto perché è stato un mercato intelligente che sta lasciando e ha lasciato giustamente spazio anche a dei ballottaggi che a certa gente, a certi giovani, a certi giocatori su cui puntare servivano, servivano, servivano e possono servire. Quindi, io sono soddisfatto, vedo una squadra comunque che va bene, poi certo, ci sono delle migliorie possibili, ci sono diversi giocatori che possano fare ancora meglio di così per me e che sarebbero aiutati magari da una gestione un po' più continuativa senza star lì sempre a cambiare, sostituzioni e via dicendo, tra una gara e l'altra. Ovviamente, cioè, non è che tutto è perfetto o che niente è migliorabile, tutto è migliorabile, niente è perfetto, però per adesso l'inerzia è positiva, insomma, l'inerzia è positiva. E per il resto ho visto anche la conferenza di italiano dopo la gara, ha elogiato Vlaovic per i gol che ha fatto, ma in effetti ha fatto veramente dei gol da centravanti vero, aiuta la squadra anche nelle sponde. Ieri avrebbe guadagnato un super voto anche al di là dei gol, perché specialmente mi viene in mente nel primo tempo ha fatto veramente delle ottime cose, ha fatto. Poi c'è chi fa la distinzione tra il dilemma con i big match, fai schifo e via dicendo, ci sono big match e big match, cioè se tu giochi contro l'Inter non puoi pretendere di vincere, secondo me, questa squadra qua. L'unico rammarico che ho, vi ripeto, è quello con la Lazio, mi ha dato più fastidio che con il Venezia, perché la Lazio, pur essendo più forte di noi ancora, era in un momento nel quale con un diverso approccio alla partita per me potevi giocarla, potevi giocarla in modo differente, con un altro approccio, un altro spirito, un po' più cazzima. Poi noi siamo anche una squadra che storicamente tende a rendere molto meglio in casa che fuori, mi ricordo anche quando la seguivamo, che eravamo più giovani, il fattore casa conta molto, però insomma adesso noi abbiamo una settimana che ci si può godere, perché si può andare a Torino senza pressione di alcun tipo, né di classifica, né di dover fare il risultato, si va lì con la squadra, con i giovani, con i giocatori che stanno facendo bene, si va dopo una prestazione che ha rinfrancato anche diversi elementi, perché Odriozola può andare a Torino sapendo di aver messo a referto un assist, di aver fatto un ottimo ingresso in campo e quindi credo giochi lui, insomma io giocherei con lui titolare a Torino. La coppia di centrali, che ovviamente mi auguro vivamente giocheranno Milenkovic e Martinez IV, ci arriva con una certa stabilità, Biraghi ci arriva dopo gare positive. A centrocampo, a seconda di quelle che saranno le scelte, mi piacerebbe vedere Amrabat, dico la verità, contro la Juve, anche per bilanciare magari Odriozola e via dicendo. Ci arriva un centrocampo che comunque tra vari interpreti il suo lo può fare, lo può dire, ci arriva un Torreira che si sta imponendo e che è stato un ottimo acquisto a centrocampo e quindi si va lì, può andare con un Saponara che non ha niente da perdere e che può avere lo stimolo di far vedere la sua tecnica, che sicuramente meritava una carriera magari diversa con un po' più di fortuna in un grande stadio, Vlaovic può mettere in mostra, non abbia niente da perdere, tutto da guadagnare e quindi insomma una settimana positiva, una settimana da vivere con piacere, una settimana da vivere con fiducia secondo me. Ditemi cosa ne pensate, un caro saluto.